La Galleria Telegrafo e la tangenziale Nord di Messina verranno riaperte domani, sabato 14 gennaio. E' quanto emerso dalla riunione operativa che si è svolta ieri, nel tardo pomeriggio. Questa è la decisione del CAS che ha dato il via alla riapertura a partire dalle 18. Non sono bastati tre turni H24, sette giorni su sette, a velocizzare i complessi interventi di ripristino della Galleria Telegrafo, a seguito del rogo causato da un camion nella notte tra il 23 e il 24 dicembre scorsi. Le forti raffiche di Maestrale, che hanno investito per 48 ore il territorio messinese, hanno di fatto impedito le delicate operazioni di spritzbeton, per mezzo delle quali la volta del tunnel viene rivestita a strati di una speciale miscela di Malta ad alta resistenza. A fine dello scorso anno era stata indicata come data di riapertura quella di oggi, il 12 gennaio, poi il rinvio di 24 ore e adesso di altre 24. Alla fine, rispetto alle previsioni, il ritardo sarà di 48 ore e in tutto 22 i giorni di disagi vissuti dalla popolazione. La riapertura della Galleria Telegrafo coinciderà però con la nuova chiusura dello svincolo di Giostra per gli automobilisti provenienti da Catania e in direzione Messina Nord, che saranno costretti a uscire ancora una volta a boccetta, intasando il traffico cittadino. Secondo il Comitato Operativo per la viabilità di Messina, lo svincolo non sarà operativo finché i lavori sul viadotto ritiro non saranno completati. Disagi che saranno parzialmente attenuati dal bypass Baglio, il cui completamento è previsto per la fine del mese di gennaio e che consentirà il doppio senso di marcia su una delle due campate del viadotto ritiro aperto al transito, non costringendo più pendolari e camionisti provenienti da Palermo all'uscita obbligatoria verso Giostra.